43 ore all'esecuzione Finn che ricordiamo è quello di... Ah no, quello di Breaking Bad era Flynn. Il caso contro Finn era inattaccabile, Cristo. L'abbiamo beccato con un ostaggio, cazzo. Se il giudice ha cambiato idea devi avergli raccontato una bella storia. Però ti ricordi che quando c'era l'ostaggio lui diceva non voglio farle del male? Vabbè, comunque me ne frega una mazza. Faccio solo il mio lavoro, io dico faccio solo il mio lavoro. Faccio il mio lavoro di Dacchi e Calvari. Lo so, lo so. Questo è il classico pezzo di merda che c'è in ogni... Dipartimenti. Il suo nome era già uscito nell'indagine. C'era un Adam Jones all'orfanotrofio. Ma sai cosa? Il poveretto è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura. Quindi è un bel vicolo cieco. Finn ha un gran tempismo. Per te dice cazzate? Valuto ogni impossibile, io li sono sprezzando. Sto solo considerando tutte le possibilità. E il giudice vuole chiudere il caso. Ha doppia mandata. Ha rilasciato temporaneamente Finn perché ci aiuti a trovare Adam Jones. Finn dice che Rominski aveva una stanza segreta all'orfanotrofio. La chiamava la stanza dei giochi. Era lì che svolgeva le sue attività extracurricolari. Un classico. Ti suona familiare? No, me ne ricorderei. Sì, non c'era nel rapporto. Mi stavo chiedendo, signor Hillary. Allora, quando hai esaminato i corpi delle vittime del manipolatore, hai scoperto niente che suggerisse l'esistenza di un altro sospetto? Cavolo, era cinque anni fa, ma non mi pare. Nessun motivo per sospettare di altri a parte Finn? Ricordo solo di aver, ecco, presentato un'analisi parziale delle prove perché il signor Finn aveva confessato e il caso era chiuso. C'erano altre prove da analizzare? Beh, sì, c'erano tracce. Hai accesso a quei dati? No, davvero, aspetta un attimo, cazzo. Come puoi anche solo pensare di lasciare uscire di cella quel bastardo di Finn? Aveva un movente. L'inferno vissuto alla Spalmas odiava la polizia. E il capello sull'altra scena del crimine. Era nella roulotte, giusto? L'assistente sociale... Ma se non è il cavolo. Bene, detective... Sembra più rasato che calvo, eh? Te la racconto io, in due parole. Mancata opportunità. Avremmo potuto ammanettare Finn proprio lì. Ah, io... Sentiamo che era da dire Marni. Vorrei sentire la detective Marni, se posso. Certo. Catherine Hope era un'assistente sociale all'orfanotrofio di Las Palmas. Non sapevamo fosse lì. Chi descriveresti come il più coraggioso? Chi è il più coraggioso tra di voi? Vabbè, ma comunque c'è anche da dire, eh? Che finora ha, diciamo, messo in risalto delle caratteristiche più prettamente maschili, no? Se vogliamo, no? Cioè, il più persuasivo, il più coraggioso... Sono tutte cose più da... Non lo so, ragazzi! In una coppia... Allora, per certe cose sì... È più facile essere uomo. Allora, per certe cose... Io sono più coraggiosa di te. Però, vabbè... Diciamo che in certe situazioni, magari... Secondo me io sono più coraggiosa, però voto per te. Ma più coraggiosa in cosa, effettivamente? Ragioniamoci. In tutto. In cosa sei più coraggiosa? In tante cose. Rifletti, quanto sono coraggiosa io tanto. Cosa? Ah, ho paura tipo delle malattie, quello sì, quello è vero. Ma non più tanto. Ero la più vicina, quindi sono andata da sole. Questo è un flashback. Sarebbe stata una passeggiata, ma... Quella notte tutti erano sulle spine perché il manipolatore è stato per colpire. Ok, sta raccontando. Ero le zanzare. E tutti potevamo essere il prossimo. Quindi questo è 5 e 3 settimane prima dell'arresto di Finn. Sette piedi. Sette piedi leggevo anni fa. Invece è 5 anni fa. Ok. La solita rulottazza. Questo è un classico. Come va va? Io... Non lo so, io cercherei nella... Vabbè, sì, rompiamo gli... Ti ho impedito, ho preso il controllo. Voto io. Ok. Va bene. Mi piace, ma non esagerate. Non lo posso fare più, purtroppo non lo... Ne avevo solo una possibilità. Tu ne hai due. Sì. Ma non preoccuparti, io sono molto più... Ecco, chi è il più democratico? Raiden. Cerca gli indizi nella parte superiore dello schermo. Ah. Quando li trovi, usa il puntatore per evidenziarli prima che scada il tempo. Ok, quindi dobbiamo trovare gli indizi prima che il timer scada. Bello questa cosa. Ma è separatamente o insieme? Dove è il timer? Ok. Aspettiamo. Oh, wow, fantastico. Un'altra parte. Oh. Ma come però? Ah, ecco. Qua. Uh, fantastico. Alla Phoenix Wright, no? Ti ricordi? Sì. Non proprio la stessa cosa. Io ne ho trovato uno, intanto. Io ne ho trovato niente. Esatto. Chi è il più... Chi è il più trova indizi? Io ne ho trovato uno. Chi è il più trova indizi? Raiden. Ok. Ne abbiamo trovati due in tutto. Raiden ha trovato kit per esplosivi. E ti pare niente, eh? Eh, in effetti questo è importante. Raiden ha trovato tronchesi. Non è proprio fondamentale. Vabbè. Ok. Aiuto? Cosa? Comunque, un po' sovrappeso questa polizia. No? No. Ah, è il giubbottazzo che è tutto tra mega sexy. Oh, mia te. Oh. Eh, gli artificieri qua ci vogliono. Infatti. Ma gli togliamo la cintura così. Aiuto, aiuto. Sshh. Ok, va tutto bene. Stai calma. Rimettimi la pallina. Era un gioco sessuale. Che te l'ha fatto? Ero, ero in un bar, poi, non lo so. Ok, mi sono trovata qui. Oddio, aiutami, ti prego, aiuto. Che succede? Io? Oh mio Dio, 27 secondi. Io scapperei. Solo chi sceglierai come... No, più che altro è chi è il più menefreghista. Eh, tu fai quello che faresti. Obiettivamente. No, dai, non è vero. Non è vero. Perché hai fatto... Perché hai fatto aiuto alla vittima? Tu la fessesti scappato. Forse è vero. Eh, scusami, non è che devi votare quello che non faresti. Sì, ma sapevo che sarebbe scappato. No, non potevi saperlo. Tu avresti fatto questo. No, non l'avevo. Allora, vedi, cioè, non è questo lo spirito in cui dobbiamo fare sto gioco. Però mi sarebbe dispiaciuta. Dispiaciuto. Ah, se si trattava solo di lanciare la bomba, sì, l'avrei fatto. Pensavo che dovevo disinnescare. Tu l'avresti toccata la bomba? No. Ragazzi, voi che cosa avreste fatto? Ecco, qui è la prima volta... Ecco, questo è il primo spazio in cui vi chiediamo. Voi che cosa avreste fatto in questa circostanza? Qui sotto nei commenti. Allora, dai. Se è stata tu, mi sarei pure... Se proprio doveva esplodere, la bomba mi sarei fatta esplodere insieme a te. Oh. Allora, ammirata o curiosa? Mi hai avuto caraggio di entrare sola. Come hai fatto a fuggire? No, di me ne frega, ammeli. Non mi raccontare altro. Stavo solo facendo il mio lavoro. E come hai collegato Finn alla scena? Il signor Finn aveva lasciato un capello sulla scena. Inserito il DNA nel nostro database dei criminali, lui è risultato corrispondere. Era già nel sistema. Finn entrava e usciva così tanto che da noi mancava solo una porta col suo nome. Quando ci hanno fatto la soffiata, che si trovava in una casa occupata, eravamo semplicemente in zona. Sembra proprio che attiri la merda, detective. Almeno io l'ho beccato. Stronzo. Mamma Orso si è arrabbiata. Attenti. Cerca di collaborare. Sì. Ok, ok, la smettiamo con le scaramucce. Non c'è ragione di essere comunque postile, no? Meglio. Un secondo. Questo era il mio caso o sbaglio? E il colpevole è stato condannato. Che cazzo sei per mettere in dubbio le mie capacità? Sono un procuratore. Hai finito? Boom. Il caso del manipolatore ha scosso tutti. Abbiamo gettato abbastanza sale sulle ferite per oggi. Sergente. Direi che abbiamo finito. Può servire altro? Voglio le analisi. Sì. Hai dei file con le analisi della scientifica su Adam Jones? Non quelli della sua morte. Han preso dei campioni mentre era all'orfanotrofio? Sì, probabilmente. Sarebbe possibile confrontare il tutto con le prove trovate sulle scene del crimine e del manipolatore? Stiamo scherzando! Stai facendo perdere tempo a tutta la divisione, lo capisci? Ho un'idea migliore. Lasciamo che lo stronzo psicopatico crepi. Calvary, basta. Se ne occuperai, Hillary. La terremo aggiornata. Grazie. Meglio mantenere la plomb che il tagliere di un procuratore suggerisce. È vero, è vero. Ehi, Graves. Sì? Volevo solo dirti che Calvary è un coglione. Già. Non preoccuparti. Mi sei stata utile. Che fai stasera? Mi piace la cosa lesbo. Sì. No, ma io non puoi fare amicizia con lei. È sprezzante. No, però... Dai, ok. Ehm, va bene. Ehi, che fai stasera? Io... Cosa? Ho una pila di fogli altissima a casa mia. Non ce la faccio a leggerli da sola. Oh, adesso si chiama fila di fogli. Posso aiutarti? Perfetto. Fila, quindi. Ma tu l'amicizia non la contempli, porca miseria? No. Quale dei tuoi amici... Io questa fa. Ah, su questa? Finalmente, io invece, ragazzi, parto. Guarda, però poi esce il lato... Però io devo dire che mantengo il sangue freddo molto meglio. Più che il sangue freddo, riesce a mantenere quella calma. Più che altro perché se ne fotte di tutte le cose. Questa è una decisione. Non lo so se è una cosa positiva. E meno male che sei così, perché sennò io saremmo tutti e due. Oh, mio Dio, che cazzo... Un'accappola per i topi. Dai, quella è messa pure con le gambe. Dai, Raiden, stanno parlando del caso. No, secondo me lei ha tendenze... L'abbiamo nascosto alla stampa. Interessanti. Bersaglio numero uno. Rupert Walsh, il becchino. Una volta ucciso, il manipolatore ha collegato un fucile alla porta e il primo agente sul posto è stato preso. Semplice, ma confuso. Non aveva la certezza di ucciderlo. Non c'era nient'altro sulla vittima. Intendo, è l'unico senza collegamenti con la spalma, sarà solo un alcolizzato. Finn l'ha definita una prova da principiante. Forse questa per lui era una bella battuta. Comunque, se non è lui il manipolatore, io... Dannazione. Questo caso sembra non avere mai una fine. Becky, vuoi fare una pausa? Vabbè, che palle, che le femmine poi si confesa, non dormo bene, c'ho le mie cose e via dicendo. Però effettivamente ti sembro stanca, è un po' troppo... Un po' troppo... Vabbè, però per dire va... Vabbè, che cavolo vuoi? Sembra mi serva una pausa? Oh, no, no, non è quello che volevo dire. Lascia stare, mi spiace, io... Sono stanca. Vedi, alla fine le femmine, sempre che devono... Lo capisco. Voglio solo capire tutto. Marchiviarlo. La buona notizia è che finirà prima di quanto pensi. Sì. Hai ragione. Secondo bersaglio, un caso raccapricciante. Quello che picchiava i bambini fino a renderli irriconoscibili. Maledetta, ha meritato di morire, allora. I servienti alla Spalmas. Già prima dell'orfanotrofio la narcotica aveva un fascicolato così su di lui. Ma non l'hanno mai incastrato. Un viscido stronzo. Il manipolatore ha lasciato il cadavere al buio collegando del C4 al lampadario. L'agente intervenuto ha premuto l'interruttore e... Sì, è la luce. Lui colpiva sia la vittima che il polizioso. Prima vera uccisione, più sofisticata, ma... Non l'ha soddisfatto. Terzo bersaglio. Padre Rominski, il capobranco. Cappellano alla Spalmas e responsabile degli abusi. Si presume. Sì, si presume. Il manipolatore l'ha aperto e imbottito di esplosivi perché saltasse in aria al minimo movimento. Ci mandò un nastro di escresse ai passaggi. Tutto in che senso? Quel pazzo ha ottenuto Rominski inginocchiato per ore a confessare i suoi peccati. Come il lupo... Come il cacciatore con il lupo in cappuccetto rosso. Conoscevi gli altri due poliziotti? Quello era il mio distretto. Allora. Loro tre e tu la prima a intervenire quando ha fallito tutti del terzo distretto. Agiva nel nostro distretto. Quanto conoscevi gli altri due? Intendo i primi poliziotti intervenuti sulla scena. Tanto da sapere che non mi piacevano. Me ne sono andata appena ho potuto. E se le prime vittime di ogni incidente fossero solo una copertura, mentre il vero bersaglio fosse il terzo distretto? Potrebbe essere... Interessante. Interessante? Sì. Questi tre poliziotti non erano esattamente dei santi, diciamo. Come? Il terzo distretto aveva problemi di natura chimica. Si drogavano? Sì, ma non solo. Mi sorprende che non sia uscito durante l'indagine. A me no. Comunque potrebbe essere vero. Che c'è tra te e Calvary? Lui è uno che se l'ha cercata. La tensione si può tagliare con una motosega. Dice che ho perso le prove e è arrogante. Calvary è uno stronzo arrogante. E perché? Beh, per iniziare ho arrestato io il manipolatore, non lui. Tipico. Ma ha avuto tempo per superarlo. Pensavo anch'io, ma continuo a ostacolarmi. In che modo? Sono nel mirino solo perché faccio bene il mio lavoro. So che non è vero. Sì, è facile per te. Io non ho un padre che combatta il mio posto. Non è facile per nessuno. Ok? Perché chi è il suo padre? Molto bene. Questa parte è più dialogica, diciamo. Era anche abbastanza lunga. Abbiamo preferito, come dire, rimanere in silenzio e farvi godere i dialoghi. Qui 1, 2, 5 al 10, 16. 31 ore mancano. 1, 2, 5 ricevuto. Fai attenzione. Secondo me questo è un altro omicidio del manipolatore. Sì, è il classico modus operandi nei film polizieschi thriller. È la polizia! C'è qualcuno? Occhio! Secondo me per goderselo appieno, questo gioco, dovrebbe farlo al buio. Tanto vabbè la direzione non la dovete guardare. Poi casomai è luminoso il telefono. E diventa un film interattivo. Oh mio Dio. Signore, mi può sentire? Non c'è una torcia? Eh, dovrebbe averla. Dai! Ok. Un altro omicidio con il modo descritto dalla polizia 8 aprile. È fine in carcere. È fine in carcere. Quindi o è un emulatore. Esatto. E quindi in quel caso ci vogliono le ROMS. Oppure... Che succede? Chissà. 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 Magari è veramente il vero colpevole, no? Cosa? Cosa è successo? Stiamo ancora ricostruendo. Un omicidio. Gli agenti vanno. Il cadavere è una trappola. Stile manipolatore. Non c'è modo in che senso? No, nel senso non può essere il manipolatore. No, io sono curioso a questo punto. Chi? Come? È Calvary. Cosa? Ah, è Calvary. Sì, è morto. Ma è il ridico. Grande, vai. È morto un pezzo di merda, signori. Non è quello che mi insultava? Sì, sì, è lui. Va bene, va bene così. Sì, però non si capisce. C'è tutto il suo distretto. Non è che vogliono incolpare lei. Invece non è buono affatto perché magari più che incolpare me, cioè, beh, lei può darsi che in realtà vadano per ammazzare pure lei poi dopo. Ma era Calvary il poliziotto che è venuto o proprio la vittima? Potresti restare fuori dalla mia zona di lavoro? Grazie. In ogni caso è morto. Ma quel che si desume, sembra che Calvary fosse con... Ah, quindi la vittima era Calvary, non il poliziotto che è intervenuto. Che ne pensi del fatto che fosse con una prostituta? Vuoi giudicarlo? Non me ne frega niente. Speriamo avesse pure l'Ace. Vent'anni mora. Calvary ha svuotato un caricatore sul muro e non ha preso nulla. Il sangue qui è il suo ed è l'agente Montesinos. L'agente Montesinos è intervenuto. Ok, mi spiace per l'agente Montesinos però... Cazzo! Ah, gli indizi. Dobbiamo trovare. Ovviamente ragazzuoli, si scherza, eh. Non è che... Ma dai! Ma c'era la lente di ingrandimento? Eh, così si trovano gli indizi. Ah, ok. Io ne ho trovati due. Eh, io ho due. Io ho trovato i fuori di proiettile. Bene, stavolta molto bene. Se ti tagliano la gola da dietro, perché sparare di qua? E col killer davanti, come fai a mancarmi? Ah, in effetti non quadrano tante cose, non collimano. Io credo di aver trovato la trappola per top, perché in effetti... È proprio lui. E invece è l'indizio principe, perché è proprio la traccia che testimonia il fatto che sia il manipolatore. Adesso trovare un dipinto non è che fosse proprio impossibile. Peso al muro. Però è stotto. E c'era una telecamera? Ma io mi accerterei se ci fossero altri esplosivi, no? Come niente di utile? Dai, non puoi... Ma dai, è caduta una cosa! Era una microcamera, dai! Becky, mi dispiace, ma devo chiedertelo. Dov'eri ieri notte? Cosa? Ah, è come pensavi tu? Sono l'amico che sa restare più calmo. Adesso te la sbrighi tu? Dov'erro ieri notte? Era a casa. Ma non è che tu, lei. Effettivamente, adesso abbiamo un alibi, perché può testimoniare. Hai visto che il mio invito era giusto? Io volevo fare cose lesbe, però tu alla fine ne hai già fatto. Cosa? Devi stare molto, molto attenta a come ti muovi. Perché? Devi elencare tutti i tuoi spostamenti. Tutti sanno come stavano le cose tra te e Calvary. Tom. Devi stare attenta. Pensi davvero che potrei fare una cosa del genere, ma ti ascolti? Sì, non ti sto accusando. Oh no, ma è la prima cosa che ti è venuta in mente. Non perdere la testa. Sai cosa penseranno. Ragiona. Vabbè, sì, effettivamente lui ha ragione. Anche se è un po' tirata per i capelli. Vorrei non lo fossero. Odiavo quello stronzo, ma non avrei mai fatto una cosa così. Io ti credo. Non dovresti neanche dirlo. Ma più che altro perché le implicazioni poi dopo. Magari uno se ne può anche fregare di che fine fanno le persone, però... Infatti. Puoi rischiare, diciamo, di essere condannati per omicidio per una... Per un pezzo di... Ma infatti la prima cosa che stavo dicendo era... Ma non ci sarà altro esplosivo? Ma dai, ma veramente così stupidi? Oh mio Dio. Però forse erano le minicicciole, quindi... Fine della prima volta, ragazzi. Fin qui, veramente? Molto bene, devo dire. Tocca la casella quando vuoi continuare. Grazie a tutti.